E' stato l'intervento di una volante del vicino commissariato di polizia a evitare che una lite familiare originata da problemi per l'affidamento di una bimba di soli 4 anni degenerasse. L'episodio si è verificato ieri a Vittoria al 113 e è arrivata la segnalazione di un violento alterco in via Leoncavallo. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno riportato alla calma i presenti e ricostruito l'intera vicenda. La lite sarebbe scaturita tra un vittoriese, il papà della piccola, e la mamma, una donna polacca di 19 anni, aiutata dalla madre di 41 anni e dal nuovo convivente, un vittoriese di 51 anni. Le indagini successive, che hanno preso le mosse dalla denuncia del papà, hanno consentito di acclarare le responsabilità penali segnalate all'autorità giudiziaria competente nei confronti del convivente della madre, che dovrà rispondere di lesioni personali e violenza privata, e delle due donne accusate di lesioni personali, violenza privata e ingiuria in concorso.